Oggi si inizia questo video in mezzo ad un campo nel cuore dell'altopiano di Asiago Nella mia compagnia siamo in 5 maschietti, in 4 abbiamo la passione per la moto E dato che io e Emanuele siamo già passati a cilindrata maggiore Ignoranza vuole che anche gli altri due ci raggiungano E oggi è arrivato il giorno di presentarvi la moto di Oscar Va bene adesso stai zitto però che mi hai già rotto i coglioni Questa qua è stata la prima giusto? 2014-2016 è il primo modello E finalmente è giunto il nostro momento La nuova moto di Oscar in questione è una BMW S1000R del 2016 Quindi la primissima edizione di questa moto E salgo in sella perché mi sono già annoiato di parlare in piedi On, incredibile quante informazioni riesce a mettere il BMW Test sound Minchia che roba Sound da 4 cilindri Che roba c'è Montiamo in GOP Ad essere sincero l'ho già provata In un video che deve ancora uscire e che non posso spoilerarvi perché è troppo bello Aspetta, aspetta, piano, piano Un attimo, sono abituato col Domi che non ha i freni, non ha il motore Quindi ho il polso che non è troppo abituato Maremma Che roba c'è, che roba È un mezzo da ben 160 cavalli Per 207 kg Come si può notare dal suo sederino È una nuda derivata praticamente dall'HP4 Dalla super sportiva di BMW Qua c'è una Honda 4x4 e bisogna portarle al rispetto E non è che hanno pronto solo l'estetica Ma anche il motore Ed è potenziato soltanto Di una trentina di cavalli Io ho provato anche la super sportiva La super sportiva è sicuramente più cattiva Ma posso assicurarvi che è una bestia anche questa Farla andare in coppia su queste strade qua È pressoché impossibile Quick shifter Madonna che termini Cambio elettronico solo in salita La posizione è davvero comoda Il manubrio si è caricato in avanti Ma ha questa pieghetta che lo rialza un po' Ti fa avere una bella posizione retta Oscar ha già fatto parecchi viaggetti E mi ha detto che non è affatto stancante Da quello che so hanno modificato anche le pedane Per renderla più comoda Cos'è che si vuole sapere solitamente di una moto? I consumi Ha un servatoio circa da 18 litri In realtà mi aspettavo che consumassene più Tipo nel misto senza scannarla Fa anche 15, 16 Senza nessun problema Poi è ovvio che se ci dai dentro Fa anche 7, 8 come niente Però diciamo che se non si vuole consumare Si riesce a non farla consumare I freni sono davvero una cosa spettacolare Quello dietro è perfetto Quello davanti secondo me È davvero troppo potente per l'uso stradale Non si riesce neanche troppo a modulare Se vogliamo trovare un difettuccio Il buono Oscar naturalmente si è preso una full optional Quindi ha subito delle sospensioni elettroniche Che in base alla mappa che metti Tra soft, medio e hard Si regolano in tempo reale In base alle condizioni della strada Naturalmente su soft è molto più confortevole Hard ti spacca i brassi Maronna che roba Un proiettile Devi pensare al futuro se vuoi guidarla Oltre alle sospensioni elettroniche Ha le due mappe di serie Che sarebbero la ROAD Che è quella base normale E la RAIN Dove la potenza viene abbassata a solo 136 cavalli Attivando però anche molti aiuti Come il controllo trazione e l'ABS Appena quindi si sfiora il freno O si accelera troppo Entrano tutti i controlli Ti tiene in completa sicurezza Essendo full optional Due mappe aggiuntive Che è la Dynamic e la Dynamic Pro Non fanno altro che regolare In maniera più sensibile L'acceleratore Che naturalmente è elettronico Oltre a togliere sempre più controlli Nella Dynamic Pro Si è praticamente tutto disattivato Viene tolto anche l'alti wheeling Che sarebbe l'antimpennata Le due cose principali Che non mi piacciono di questa moto Diciamo i suoi difetti Sono il cambio elettronico in salita Che alle basse velocità Non funziona proprio Bisogna cliccare la frizione E la frizione È una frizione a cavo Non regolabile E quindi per andarla a premere Devi darla smanacciata Perché è tanto distante dal manubrio Cioè Ma che roba Per andarla a premere Devi Non so Devi far compagnia alla forcella anteriore Le scalate secondo me Le si fanno un po' più lente Del dovuto Nel display si vedono tutte quante le informazioni necessarie Forse l'unica cosa che manca è la temperatura dell'aria Ma c'è anche il timer da prendere i tempi sulla pista Essendo full optional Anche l'ABS cornering Evita di uccidersi in curva Se si pinza La piattaforma iniziale Per chi non sapesse cos'è Non è altro che una bolla da muratori Installata sotto la sella Che in base all'inclinazione della moto Dà informazione alla centralina Spiegato in parole molto povere È molto carina anche perché Se si usa bene il polso Sa essere anche docile Ed essere una moto da tutti i giorni Ecco Un moto da tutti i giorni Che poi però se vuoi portarla in pista Ti fa fare anche il tempo Nuovamente ritornando nel full optional Qua come potete vedere Abbiamo le manopole riscaldate E di qua invece il cruise control Spettacolare per l'autostrada Imposti una velocità e te la mantiene Si vede che è stata addolcita E civilizzata apposta per l'uso stradale Anche come agilità non è affatto male È ovvio che non avete un dominator Cioè è molto più simile a una super sportiva Che è un motard La frizione a cavo non è regolabile Ma io direi che si può perdonare Perché ha la frizione Antisaltellamento E quando si fanno le scalate troppo forte Fa tutto lei praticamente Come estetica io direi che non c'è nulla da dire Il codino è davvero spettacolare Questo scarico anche essendo originale Fa un sound della madonna Tira anche dei bei scoppiettini L'anteriore Eh va a gusti A me non fa impazzire A Oscar gli piace tanto Beh dai sembra storpiata Sì diciamo che è abbastanza soggettiva Nel complesso comunque mi piace molto Bene questa qui è stata la mia review Se avete delle domande a cui non ho risposto In questo video potete farmele qui sotto Così potrei fare un video Per rispondere nel secondo canale Che si chiama Danny Starantello Questo qui è il primo modello uscito Quindi possiamo dire che è il primo genito Dal modello del 2017 in poi Hanno giusto cambiato alcuni accorgimenti Hanno aggiunto 5 cavalli Cambio elettronico sia in salita che in scalata Launch control E c'è il frigobar Ah e originale esce con la Karpovic Ah e aspettate mi ero dimenticato una cosa importantissima Le frecce a led E il puntale coprimotore Sono anch'essi degli optional Io spero che questo video vi sia piaciuto Prima di abbandonarvi del tutto Vi consiglio di andare a vedere su Instagram Che ho appena pubblicato la foto Che ho fatto in mezzo al campo con questa moto Che è davvero molto carina In descrizione trovate tutta quante l'attrezzatura Che io uso durante i miei video La mia carta d'identità Vediamo qua Il mio shop di felpe e magliette E poi cos'è che c'è? Noi ci vediamo al prossimo video 1, 2, 3 Diciamo sta ok 1, 2, 3 Ciao Ciao Com'è male la gamba? Ce la posso stare qua in due Questo qua sarà un dietro alle quinte Di come facciamo le riprese esterne Io ho capito però Dai Oscar Ma è come Cioè non è che Mi fermo in un posto Ci ricambiamo Facciamo due metri Ti rimetti Dai Fa sto sacrificio Dopo sai che bel video che hai Non ho neanche le maniglie per tenermi Eh ma non è che vado ai 200 all'ora Andiamo piano Metti le sospensioni tarate per due Ci sono le sospensioni tarate per due Adesso in modalità pilota singolo Ah Nooo E ci sono i due caschetti Cambiali ancora Secondo me c'è anche quello con la valigia Sul GS c'è quello Ah non c'è Ah guarda che figata Qui ci sono due piccoli caschetti Che dicono Se è un pilota o due Monta Ma non posso montare quando siamo in strada Sì Oh ti prego vai qui Sì Ma che cazzo Sembri una figa Muoviti un po' Sennò triboliamo Questo è già un bello spot Di là ce n'è un altro ancora bello E questa qua è bellissima Ne facciamo una dall'interno E una dall'esterno Ti metti prima Di là del guardrail E faccio una ripresa in su Una ripresa in giù No di qua Sinistra là Dove c'è il burrone Devo smontare Sì Aspetta questo qua Non puoi cartello da qualche parte E rec E va che se la tieni tanto In stand by Si spegne da sola Quindi devi rimetterla in off E in on Eh non faccio zoom io No 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 Sì sì Tre curve più indietro Sulla destra Mettiti più in centro La curva possibile Venuto bene? Ci sarebbe un'altra curva Bella più in là Tipo questa Facciamo la stessa roba Ma prendi anche questa Ti metti là Ma se prendi di là Prendi anche l'ingresso E fai così Oscar Riprendi quella là Che arrivo Ti giri E fai vedere anche Un pezzo di questa Andiamo nel rettilineo Che c'è qua Facciamo due passate veloci Due passate lente E andiamo Ciao Ciao E facciamo un paio L'abbio avanti Sente poco Passi veloce Prima mi è entrato Il traction control Strepitoso Mi è partita proprio Ho sentito il culetto Che ha sbandato E subito che mi ha preso Incredibile Bellissimo Comunque adesso Che sto facendo Ste curvette così Con la postura corretta Troppo bella Divertentissimo Ti metto qua Hanno notti coglioni Le macchine Nell'inquadratura Sicuro Non lo so No perché C'è fatalità Quando sono passato io Ho passato anche Sono passate le macchine Non mi se ne hai Ti ripreso Fa tranquillo Monta Di solo la mente Grazie a tutti Grazie a tutti